Capisco che il grande problema dell'intermediazione, quindi dello sfaldamento, dello sbriciolamento di attività che sono passate dall'analogico al digitale, come la fotografia, come l'editoria, il cinema, sono state sicuramente danneggiate dall'impatto con la mancanza di intermediazione, anzi più che mancanza con la fine dell'intermediazione, quello che stai dicendo tu invece è un'altra cosa, cioè che l'intermediazione all'interno del processo televisivo tendente verso piattaforme web ha invece bisogno di intermediazione, di consulenza, di far incontrare i soggetti che producono con quelli che poi distribuiscono. È giusta questa interpretazione o no? Assolutamente, la condivido in pieno. Ti faccio un esempio americano, negli Stati Uniti dove il fenomeno YouTube mai produce autentiche star in grado anche di attrarre investimenti milionari, si sono formati negli ultimi due o tre anni, quindi non parliamo di un qualcosa come le grandi emittenti via capo che esiste da decenni, che esistono da decenni, parliamo veramente di un fenomeno recente, si sono formati dei network, uno fra i tanti Maker Studios è partito con un investimento di venture capital di un milione e mezzo di dollari e nel giro di meno di 24 mesi ha venduto neanche la maggioranza, una quota della società per 40 milioni di dollari a un pool di fondi capeggiato da Time Warner, quindi è entrato nell'ottica Time Warner. Ebbene, perché improvvisamente un soggetto della forza di Time Warner, pensiamo televisivamente la quantità di emittenti che poi si appoggiano sulla realtà dell'impero Time Warner, che ha bisogno continuo di approvvigionarsi di nuovi idee, di nuovi format, di nuovi talenti, perché un soggetto di queste dimensioni non si è fatto da solo il suo recruitment, non si è fatto da solo la sua ricerca, il suo network, il suo intermediario all'interno di internet, ma l'ha cercato già pronto? Perché effettivamente il discorso del know-how, del sapere, dell'esperienza non è così banale, essere sul pezzo, direbbe il giornalista, non è un qualcosa di scontato, è un qualcosa che richiede molti anni, richiede davvero un impegno e poi richiede anche una serie di personalità, perché poi la storia la fanno gli uomini, di esseri umani, professionisti che sono in grado di dare quel di più. La forza di questi network che sono nati su YouTube negli Stati Uniti è di aver fatto questo percorso, di averlo associato a un percorso che parte dal basso, delle giovani star, parte veramente dal basso, inteso dal pigiama e pantofole davanti alla webcam in casa, nella cameretta dell'adolescente, per poi via via arrivare agli studi. Maker Studios hanno con il loro primo seed di Venture Capital affittato degli studi televisivi a Calvert City, arriva quindi poi finalmente all'abito firmato e addirittura può cominciare ad ambire, non dico le prime serate, ma insomma quantomeno un access time o una seconda serata televisiva. Ebbene, questo tipo di percorso è un tipo di percorso che oggi non va più a coinvolgere una, cinque, dieci persone. Parliamo di strutture che coinvolgono centinaia di talenti e un numero ancora maggiore di operatori, producer, autori, quindi parliamo veramente di migliaia di professionisti che vanno e hanno necessità, che vanno online, hanno necessità di intermediari e professionisti nonché di produttori a loro volta che ci credano, che riescano a fare da collante fra il loro meccanismo distributivo dal basso e le esigenze che arrivano dall'alto dei grandi gruppi. Se l'esperienza americana ci insegna questo e se, come è vero, la televisione l'hanno creata gli americani e noi in Europa, soltanto in Italia, andiamo da decenni e decenni al rimorchio di quello che succede oltreoceano, se tanto mi dà tanto, credo sia abbastanza ascoltato a tendersi di rivedere lo stesso identico tipo di situazione che oggi avviene online sui network audiovisivi pur digital, 100% online in larga banda, dicevo mi attendo di rivedere la stessa identica situazione anche nella penisola nel giro di 3 o 4 anni, non di più arrivare anche ad alti livelli. Bene, quindi in attesa di questi botti, di questi grandi numeri a 2 o 3 cifre di percentuale di incremento, per adesso leggiamo il libro tuo e di Gianpaolo Colletti, seguiamo i tuoi talenti con l'attività di Full e speriamo poi di vedere qualche nuovo programma prodotto come autore da te per la Rai. Per adesso? Ne sto ragionando parecchio, nel cassetto parecchi format naturalmente e inevitabilmente legati ai social media, diciamo che i tempi potrebbero anche essere maturi, speriamo, incrociamoli di te. Benissimo, ti ringraziamo molto e alla prossima allora, grazie. Grazie a te Giorgio.